La vita consacrata arricchisce la comunione ecclesiale e contribuisce alla missione della Chiesa in tutto il mondo. Lo scrive il Papa nel messaggio inviato ai partecipanti al congresso della vita religiosa consacrata, promosso dalla Conferenza dei Religiosi del Brasile. In molti luoghi del pianeta il primo annuncio del Vangelo ha il volto degli uomini e donne consacrati che assumono con grande impegno e con la dedizione della propria vita il mandato del Signore, e le parole di Francesco, secondo il quale il dono della vocazione deve essere custodito e coltivato ogni giorno affinché produca buoni frutti nella vita di religiosi e religiose. Per vivere bene la chiamata divina è necessario rimanere nel suo amore attraverso il dialogo costante con Gesù nella preghiera quotidiana e la fedeltà ai voti che esprimono in modo così bello la nostra consacrazione, l'invito del Papa sulla scorta del tema del congresso. Poi aggiunge ancora il Pontefice La povertà non è uno sforzo titanico, ma una libertà superiore. La castità non è una sterilità austera, ma la via per amare senza possedere. L'obbedienza, conclude, non è disciplina, ma la vittoria sulla nostra anarchia, nello stile di Gesù.